Ciao a tutti, sono tornata con un altro video Tiger. Ebbene sì, domenica sono stata da Tiger, ve l'avevo già detto nella decorazione agenda, e ho trovato delle cosine di questa collezione. Non ho trovato tante cose perché comunque ero di fretta, ma ci ritornerò sicuramente perché ho visto veramente delle cose super super carine, poi comunque non avevano ancora messo su tutto, quindi ero di fretta, non hanno ancora messo su tutto, quindi mi sono detta ci ritornerò e come. Alcune cose sono cose che avevo già visto già in altri video, nell'anno scorso, però io non avendole trovate nel mio Tiger, le ho trovate quest'anno, quindi meglio tardi che mai. Non sono neanche tantissime cose, però quelle che sono, sono veramente super 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 pucciosine. Allora, ho trovato questo foio di stickers qua, con tutti questi cuoricini, cioè veramente stupendo, tutto un po' olografico, veramente bello bello, mi piace tantissimo. Anche perché ho cercato di prendere tutti gli stickers che c'erano, perché appunto vanno via, che è una meraviglia, quindi mi sono detta li prendo. Poi quando ci ritornerò, se li ritrovo, cerco di fare il doppione, ecco, magari di quelli che mi piacciono di più, o magari se ne mettono dei nuovi, chi lo sa. Vedrò al momento, comunque ho preso questo qui con i cuori, veramente stupendo. Poi ho trovato questo qui, con i lama e i alpaca, questo qui che era già uscito già in diverse collezioni, però io non l'avevo mai trovato, quindi l'ho trovato ora. Quindi anche questo meglio tardi che mai. Peccato che fa un po' di riflesso, comunque ci sono tutti questi lama sul viola, sul rosa, azzurro, verdino, veramente stupendi. Mi piacciono tantissimo. Poi ho trovato questo qui con i micetti, veramente adorabile, anche questo mi piace tantissimo. Cioè che carini questi, amori, veramente bellissimi. Ci sono anche i topini, non ci avevo fatto caso. Topini, la scatoletta del tono, insomma, il cibo che mangiano i gatti, ora non mi veniva. Io ho sempre avuto più cani che gatti, quindi. No, veramente il gatto non ce l'ho mai avuto, ho avuto solo cani, però ecco, anche i gatti mi piacciono, naturalmente, sono super super carini. Poi, infine ho trovato questo qui che l'avevo già visto, come vi dicevo l'anno scorso in altri video, però una volta che l'ho trovato io sono stata non super contenta di più. E devo dire che mi piace tantissimo, cioè lo trovo veramente uno tra i più belli, super puccesino. E questo qui, con tutti questi bambini e bambine super innamorati, cioè veramente mi piace tantissimo. È troppo tenero, troppo pucci, pucci, troppo bello, bello. Cioè veramente stupendo. Mi piace tantissimo. Chiaramente wow, bello, mi piace tanto, tanto, tanto. Peccato che non metta fuoco. Ecco, forse così è meglio, vediamo. Eccolo qua, bellissimo. E infine, questi sono solamente i quattro foi di stickers che ho trovato. Poi ho trovato finalmente i washi. E devo dire che questi washi sono veramente belli, cioè non sono come quelli della collezione di gennaio, che onestamente non mi dicevano una cippa. Ecco, per essere più carina. E non ho neanche guardato se c'erano ancora quelli di gennaio, quindi adesso vedo se sei qua, non insomma ci ritornerò se prenderli oppure no. Però ecco, se mi tirano fuori queste meraviglie, sinceramente quell'altro mi passano inosservati, perché guardate quanto sono belli. Questi sono i washi che ha fatto quest'anno Tiger per quanto riguarda questa collezione. C'erano solamente questi due tipi qua. Ah, i stickers, l'ho pagato 1 euro l'uno, questi 3 euro. Quindi 3 e 3 in sostanza, quindi 6 euro. Però comunque devo dire che sono bellissimi. E c'è questo con scritto Sweet Love, questo con i cuori, questo con l'arcobaleno, questo con tutte queste righe colorate. Guardate qua, good, cos'è che c'è scritto? Sì. E poi questo qui con le manine così. Sono veramente adorabili. Devo dire che anche di prodotto ce n'è abbastanza, perché comunque ce n'è abbastanza. Non è che si può dire che ce n'è poco. Sono da 5 metri, ecco poi. Tra l'altro c'è anche scritto. E quindi niente. Questi erano i miei pochi acquisti che ho fatto per quanto riguarda questa collezione, questo mese. Ma sicuramente ci ritornerò, come ho già premesso. Spero poi di ritornarci. Lo spero veramente. Perché ho visto che poi stavano mettendo su altre cosine. Quindi ho detto, innanzitutto prendo le cose principali che mi interessano. Wash e stickers. Poi se trovo anche altre cosine, ben venga perché no. Questa collezione devo dire che mi piace. Quindi veramente bravo Tiger. Quando invece l'anno scorso, diciamo che la collezione di febbraio non è che mi è piaciuta poi così tanto. Era solo a tema San Valentino, però giustamente magari c'è anche chi non festeggia il San Valentino. Quindi giustamente è giusto che mettono anche altre cose. E niente, queste sono le mie poche cosine che ho comprato. Spero che questo mini video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi invito, come sempre, a lasciarmi un bel pollicione in su, ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina così che vi arriva la notifica dei miei prossimi video che pubblicherò. Un bacione grande grande. Come sempre vi lascio qua giù in basso nell'info box il mio account se mi volete seguire. Un bacione grande grande. Ciao al prossimo video. Ciao!